ciao amici benvenuti marco drums games channel stranded sales explorers of the course island ps4 ps5 ps4 ps5 ci sono due versioni state attenti a comprarle perché se comprate la versione ps4 non avrete la versione ps5 dove comprare due volte attenzione quello che c'è trofeo master chef scopri tutte le ricette io adesso ragazzi vi faccio vedere quello che piace a tutti i nostri amici allora al nostro amico sopra in cima che non mi ricordo più come si chiama perché mi dice il suo nome va bene allora charles gli piace il marlin gli piace il pesce serra e gli piace il pimento in polvere al nostro amico sven gli piace le vongole gli piace la patata e gli piace la cipolla poi alla nostra amica fiona gli piace la melanzana il pomodoro e il la pannocchia la pannocchietta il nostro amico logan ragazzi a logan gli piace la carota la zucca e il granchio e il granchio ok adesso il nostro amico frizz a frizz gli piace la platessa a frizz gli piace il peperoncino e a frizz gli piace lo sgombro dai ragazzi ci abbiamo quasi fatta Teresa alla nostra amica Teresa a Teresa gli piace la canna da zucchero e a Teresa e a Teresa gli piace la spigola grande Teresa alla nostra amica Cecilia gli piace l'aragosta gli piace la rarice di zenzero e gli piace il timo fresco e all'ultimo nostro amica Brenda gli piace alla Brenda gli piace il pepe nero e alla Brenda gli piace il red snapper che sarebbe il luthiano rosso eccola qua questi come vi ho detto sono tutti i cibi che piacciono ai nostri amici e vi servono per fare il trofeo chiaramente dovete farli tutti quindi la prima volta fate un cibo che piace a tutti la seconda fate il secondo cibo la terza volta fate il terzo cibo che piacciono a tutti i nostri amici che comunque li potete vedere anche qui ah no adesso non si può perché ho già fatto la brodaglia va bene ragazzi spero che il video del trofeo Masterchef vi sia servito e ci vediamo al prossimo video sia di Stranger 6 che tantissimi altri video tutorial video Trophy Hunter dei trofei le dirette delle live e tantissimi tantissimi altri video che faccio per voi Marco Drums Games vi saluta vi ringrazio se vi mettete un mi piace commentate e seguite il canale youtube ho anche un bel canale twitch sempre Marco Drums Games vi cercate comunque lascio i link in descrizione e anche facebook twitter instagram tiktok e discord ciao ragazzi al prossimo video di Stranger 6 e tantissimi tantissimi altri giochi dei one edition e non ciao amici alla prossima ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.